La recente perturbazione ciclonica ha causato a Valle della Diga di Ragoleto una rovinosa piena del fiume di Rillo con forte erosione dell'alveo e delle sponde, diversioni del corso del fiume con tracimazioni, rotture degli argini e allagamenti di estese porzioni di terreni coltivati. Per questo il direttore generale del Consorzio di Bonifica Provinciale numero 8 Giovanni Cosentini ha inviato all'assessorato regionale e alle risorse agricole una relazione con cui viene rappresentata l'esigenza dell'immediata autorizzazione e finanziamento di una perizia di lavori urgenti dell'importo di 200.000 euro da eseguirsi in economia finalizzata al ripristino della funzionalità di tratti danneggiati di condotta principale e secondaria. Senza ciò per Cosentini non è in alcun modo possibile assicurare il regolare avvio della stagione in rigua di solito previsto per i primi di giugno. Per rappresentare la gravità della situazione e attivare strategie operative che in qualche modo possono attenuare i gravi disagi esistenti il direttore Cosentini ha convocato d'urgenza per mercoledì 4 aprile una riunione con i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole.